Quasi 8 milioni di euro, queste le risorse finanziarie che la Regione Calabria ha messo a disposizione del territorio crotonese per interventi di messa in sicurezza e ripristino a seguito dell'emergenza maltempo che ha interessato l'intera provincia il 21 e 22 di novembre scorsi. Durante una riunione convocata dal Presidente facente funzioni Isaborito e dalla quale hanno partecipato i sindaci, consiglieri delegati e i tecnici dei comuni interessati dagli eventi luvinali, i dirigenti della provincia, la consigliera regionale Flora Scurco, sono state analizzate procedure e verificate le maggiori criticità. La consigliera Scurco, in continuo e stretto contatto con i dipartimenti della Regione e con gli assessori regionali di riferimento per l'emergenza maltempo, ha illustrato ai presenti le risorse e le azioni che l'ente Regione intende mettere in campo per Crotone ed il suo territorio. Il Dipartimento regionale all'Ambiente ha messo a disposizione del territorio 1 milione e 400 mila euro per interventi urgenti su fiumi, torrenti ed argini. Per ciascun comune sono previsti ulteriori 3-400 mila euro per interventi strutturali e poi 6 milioni di euro immediatamente disponibili ed utilizzabili da tutti i dipartimenti. La provincia, oltre a fare da raccordo tra i comuni e la Regione, intende affiancare gli enti locali nella redazione delle schede tecniche nella produzione di tutta la documentazione necessaria per dare subito risposte al territorio. Ed è per questo che già nei prossimi giorni, alla luce di quanto reso noto dalla consigliera regionale Scurco, è stato già fissato un nuovo incontro con i sindaci ed i tecnici per verificare lo stato di avanzamento degli iter e per appurare e risolvere eventuali criticità.